La gestione dell'accoglienza dei richiedenti asilo resta un nodo non di poco conto su tutto il territorio provinciale, con piccoli focolai di tensione da tenere monitorati. Vedi Breno e Albone, per citare i più recenti, ma c'è un dato nuovo che non va assolutamente trascurato. Anche a Piacenza sono in calo le ondate di profughi che arrivano nella nostra città via Bologna, il capoluogo di regione dove avviene lo smistamento dopo gli sbarchi al sud. A rivelarlo sono i dati della prefettura aggiornati al 25 agosto che denotano una prima flessione da almeno due anni a questa parte. Se a luglio erano stati accolti 38 stranieri, ad agosto si è fermi a 27. Piccoli numeri ma significativi se rapportati a quanto si prevedeva solo in primavera e a quanto accadde 12 mesi fa con un agosto di fuoco. Una svolta che a cascata oltre a livello nazionale ha coinvolto dunque anche la nostra città. Il raffronto è eloquente e bisogna rifarsi all'estate scorsa per comprenderla. Al 31 luglio del 2016 i migranti in tutto il territorio provinciale erano 682. Un mese dopo, 25 agosto 2016, erano saliti a 736 più 54 persone. Un anno dopo la situazione fotografata è questa. Il 31 luglio del 2017 gli immigrati presenti erano 1190 mentre l'altro giorno se ne contavano 1172. Questo significa meno 18 persone. Una diminuzione derivante dal fatto che alcune persone hanno abbandonato volontariamente il sistema di accoglienza oppure che hanno concluso le procedure e hanno ricevuto lo status di rifugiato. In ogni caso una riduzione che conferma il tren nazionale.